Sette errori da evitare assolutamente quando studi. Ciao, io sono Nicola e in questo canale parliamo di metodi di studio universitario, di mindset di successo e di psicologia applicata allo studio. Voglio vedere oggi quali sono i sette errori principali che commetti quando studi, partendo dal primo, che è quello dell'organizzazione. Prima di continuare con il video, ti invito a iscriverti al canale. Troverai tre diverse categorie aggiornate con il video di ogni giorno e quindi ti basterà cliccare su iscriviti e attivare la campanella delle notifiche. Torniamo al video. Infatti, spesso, gli studenti che hanno meno successo hanno una poca, strutturata male o addirittura mancante, organizzazione, sia del tempo dello studio, sia del materiale che devono affrontare. Questo, ovviamente, si articola nel rendere tutto il processo troppo complesso da gestire contro, invece, un'ottima organizzazione che rende tutto il processo più semplice, perché è più facile orientarsi in quanto si deve affrontare. Ovviamente, una buona organizzazione ti permette già a monte di poter considerare o gli impegni che si verificheranno nel periodo di studio, oppure di poter gestire gli imprevisti che capiteranno sempre e che non devono mai coglierti alla sprovvista. Ovviamente, se tu hai una buona organizzazione, vuol dire che hai già messo le basi per una struttura, quindi per un metodo di studio strutturato, e quindi muoversi all'interno di questa struttura è molto più vantaggioso che non avere nessuna bussola per orientarsi, nel caso in cui hai un basso livello di organizzazione. Il secondo errore riguarda l'uso delle tecniche. In particolare, molti studenti sbagliano nell'utilizzare delle tecniche per degli scopi che non sono previsti dalla tecnica stessa. Quindi, ad esempio, ripetere per memorizzare, che è una delle tecniche, per così dire, più utilizzate dagli studenti, è quella che porta ai maggiori livelli di disagio e anche di insuccesso a livello universitario. Infatti, spesso è l'aspetto più comune, o comunque che viene condiviso da molti studenti, quello di cercare di ripetere il materiale ad oltranza fin quando non rimane in mente. Ma questa, ovviamente, non è la strada né tantomeno più semplice e né ti garantirà di ottenere il risultato sperato, proprio perché non è la tecnica giusta per l'obiettivo. Ovviamente, questo porterà da un punto di vista emotivo e anche di motivazione a vivere continue frustrazioni e ansia data appunto dall'incertezza nella preparazione. Quindi, quello che dovresti fare è cercare di considerare che ogni tecnica rientra in tempi propri, quindi ogni tecnica deve essere applicata in una certa fase dello studio e, più in generale, ogni tecnica serve a qualcosa nello specifico. Inoltre, ciascuna tecnica non può entrare, diciamo, nel dominio delle altre, ma deve essere coordinata con queste per creare un metodo di studio complesso, ma organizzato e ben strutturato. Il terzo errore è quello di puntare tutto sulla memoria. Infatti, voglio dirti che, ovviamente, memorizzare è fondamentale, è uno degli aspetti principali dello studio in generale, è un po' l'obiettivo e questo è perfettamente corretto, è giusto per seguire un'ottima memoria, ma non è giusto cercare di puntare esclusivamente su questa. Infatti, devi pensare alla memoria come un solo elemento di un più ampio ecosistema in cui, ripetiamo, svolge un ruolo davvero importante, ma non un ruolo principale. Infatti, quando studi in modo efficace, studi sulla base delle tue caratteristiche, la memoria, un po' come avviene tutti i giorni, si sviluppa in modo indiretto, è una conseguenza di un ottimo studio. Anche se, quello che voglio dirti è che, in quanto devi diventare un professionista nell'ambito che hai scelto per il tuo corso di laurea, questo non vuol dire che tu debba essere un campione di memoria. Anzi, puoi tranquillamente utilizzare la giusta quantità di tecniche di memorizzazione, quindi di mnemotecniche, associandola a tante altre cose che, come abbiamo detto, costituiscono l'ecosistema dello studio. Il quarto errore è quello di utilizzare dei metodi inutili. Infatti, inutili intendo quei metodi che non fanno per te, quindi quei metodi che non nascono per riuscire a farti esprimere al meglio le tue abilità a partire dalle tue caratteristiche, ma invece parliamo di quei metodi che sono così venduti come se dovessero essere seguiti step by step e garantiranno il risultato per qualche strana formula che chi ti propone questa soluzione dice di aver trovato. Il problema principale è il fatto che, proprio perché ti viene venduto una forma rigida e preconfezionata di metodo, non hai alcun margine di adattamento, perché quello che ti viene proposto è già standardizzato e non ti permette di modificarlo a tuo piacimento. Cosa che invece è fondamentale, perché questo è uno degli aspetti principali di tutto il video e che voglio rimanga particolarmente impresso, è che devi personalizzare il tuo metodo. Devi personalizzarlo in tutte le fasi. Ovviamente, questo deve avvenire senza dimenticare i principi di base. E questo ci collega al quinto errore, quello di non considerare i principi di base. Ma di quali principi parliamo? La mente ha delle regole da rispettare, che quindi si basano sul funzionamento del cervello. È come se fossi in un gioco. La mente ha delle regole e tu devi rispettarle. Anzi, devi imparare ad utilizzarle a tuo favore, non andando contro. Infatti, se tu scegli di sviluppare le tue abilità che ti permettono di utilizzare la mente come se fossi un alleate e non di combattere continuamente, otterrai risultati nettamente migliori e con molto meno sforzo, proprio perché stai seguendo le regole e sfruttandole per il tuo vantaggio. Ovviamente, quindi, come ti ho appena detto, sarà sempre una lotta costante per cercare di memorizzare quelle informazioni, per cercare di parlare durante l'esame nel modo corretto senza farti prendere troppo dall'ansia, per cercare di non arrivare stremato il giorno prima dell'esame. Quindi sono tutta una serie di regole che devi conoscere e devi rispettare e a partire dalle quali poi puoi aggiungere qualcosa di tuo per personalizzarlo. Ovviamente, il fatto di non conoscere le regole spiega una buona parte dei problemi che potresti avere e riconoscere in questo momento, tra quelli che stiamo vedendo in questo video, che sono i problemi principali che può avere uno studente universitario. Il sesto errore è quello di cercare di avere dei ritmi insostenibili. Infatti, se studi senza tener conto di una visione più ampia, per così dire, una visione d'insieme, ti troverai dei giorni in cui andrà tutto bene e magari riesci a studiare un bel po' del materiale e poi avrai due o tre giorni in cui ti sentirai demotivato perché c'è qualcosa che non va. Infatti, questo ti porterà probabilmente a spiegare delle giornate di studio, a sentirti anche giù perché non riesci a mantenere appunto dei ritmi costanti, dei ritmi buoni e non hai nemmeno molta fiducia nelle tue abilità se senti continuamente questi alti e bassi e soprattutto non sai nemmeno come interpretarli, cioè non sai perché si verificano. Ovviamente, questo è legato al fatto che avere dei ritmi che non sono ben definiti e non sono sostenibili in base alle tue caratteristiche, vuol dire avere un effetto sui livelli di attenzione che puoi mantenere durante tutta la giornata. Quindi, anche se studi sei ore in un giorno, ma non sai come gestire i ritmi delle pause e dei momenti invece in cui ti applichi per lo studio, ti troverai ad avere dei bassissimi livelli di attenzione quasi per tutta la giornata di studio che stai affrontando. Questo ovviamente ti porterà a non saper gestire le scadenze, quindi quando ti troverai in prossimità dell'esame non sarai pronto come dovresti essere, non arrivi quindi preparato. E ti consiglio sempre di studiare meno quantitativamente, ma non qualitativamente, ma mantenere un certo ritmo costante, piuttosto che spararti dei giorni da 50-60 pagine una volta ogni tanto. Quindi, meglio studiare meno ma in modo costante che studiare tantissimo ma in modo saltuario. L'ultimo errore, il settimo errore, è un errore molto comune che è quello di ridursi all'ultimo. Ovviamente è un sintomo di errori che avvengono a più livelli, non è un errore singolo e, come ha intuito, si collega a tutti quelli che abbiamo visto finora. Questo ovviamente ti porterà ad avere dei problemi come preoccupazione, come stress mentale, perché ti trovi sempre a non sentirti in grado di gestire ciò che hai davanti, proprio come percezione del controllo che hai sulla tua vita universitaria, che poi ha effetto sulla tua vita in generale. Ovviamente rispecchia un mindset di sufficienza e non un mindset di eccellenza, anche perché questo ti porta a compromettere i risultati, quindi non otterrai mai dei risultati altissimi se ti riduci a studiare sempre all'ultimo, sempre con l'acqua alla gola, e al tempo stesso dovrai accettare dei compromessi per fare in modo che quello che hai ottenuto in un modo o nell'altro deve andarti bene. Infatti, quello che voglio dirti anche per rincuorarti e per cercare di darti attivamente fin da subito una mano, è che bastano pochissimi accorgimenti per risolvere questi e anche gli altri problemi. Per ricapitolare, voglio farti una brevissima lista di quanto abbiamo visto. Quindi, il primo errore è una poca o nessuna organizzazione. Il secondo errore è utilizzare le tecniche in modo sbagliato. Il terzo errore è puntare tutto e solo sulla memoria. Il quarto errore è utilizzare metodi inutili per te, quindi che non sono costruiti su misura per te. Il quinto errore è ignorare i principi di base della mente, che devi assolutamente rispettare, quindi le regole che devi conoscere e sfruttare a tuo favore. Il sesto errore è utilizzare ritmi di studio, che sono del tutto insostenibili. E il settimo errore è ridursi all'ultimo momento per studiare. Spero di averti illuminato un po' in questo video, di averti aiutato. E per nuovi contenuti ti invito a iscriverti al canale, in cui troverai la soluzione di tutti questi errori, esplorati nel dettaglio a uno a uno, per cercare di cogliere quali dinamiche avvengono e quindi come puoi migliorare fin da subito. Quindi, se vuoi, scrivi nei commenti se hai qualche dubbio, se hai qualche suggerimento, se vorresti parlare di qualcosa in particolare, infatti ti risponderò personalmente. Se invece vuoi delle consulenze private a tu per tu con me, in descrizione trovi il link per procedere. Io quindi ne approfitto per ringraziarti dell'attenzione e ti aspetto nel video di domani. Grazie. 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 Grazie.